Il prossimo martedì 13 settembre si terrà presso il secondo circolo didattico il sorteggio per le insegnanti delle classi prime. Alle ore 10 quelli di Via Olanda, mentre alle ore 12 è il turno di quelli di Via Roma. Ricordiamo che il sorteggio avverrà tutto nella sezione di Via Olanda. A darne comunicazione il dirigente scolastico del secondo circolo, Antonietta Maria Monreale.